Buongiorno a tutti, ho accettato con piacere l'invito dell'Istituto Beni Culturali di dare un saluto e qualche spunto di riflessione per ricordare la figura di Andrea Emiliani. Come sapete avremmo dovuto celebrare un convegno nell'anniversario della sua scomparsa che per le note ragioni di emergenza sanitaria è stato rinviato all'autunno. Intanto ricordiamo alcuni aspetti della figura di Andrea Emiliani e quelli che vorrei ricordare io sono strettamente collegati alla collaborazione fra Andrea Emiliani e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna che rappresento. La collaborazione di Andrea Emiliani con la Fondazione del Monte e prima ancora con la banca del Monte di Bologna e di Ravenna è di antichissima data. Andrea Emiliani ha promosso le scelte editoriali della Fondazione, ha scritto le prefazioni a numerose pubblicazioni della Fondazione, ha promosso convegni, ha promosso seminari, iniziative culturali, le ha ideate, organizzate e suggerite. È stato anche consulente della Fondazione del Monte con riferimento a numerose opere d'arte. La Fondazione ha pubblicato numerosi saggi di Andrea Emiliani e ricordo fra i più recenti la pubblicazione di Incontri con il pubblico, proposte di lettura per le mostre della Pinacoteca Nazionale 1983-1998. Forse non tutti sanno che Andrea Emiliani è stato anche consigliere di amministrazione della Fondazione del Monte e che ne è stato vicepresidente fino al 2003. È stato altresì consulente della Fondazione fino alla metà degli anni 2000. Fra le collaborazioni più importanti ricordo quella che nel 2002 ha avviato la ricostruzione di un frammento di un'opera di Guido Reni, oggi custodita nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, dove è stata lasciata in deposito indeterminato dalla Fondazione del Monte. L'opera a cui mi riferisco è Le nozze di Bacco e Arianna che Guido Reni dipinse negli anni 1638-1640 su commissione del cardinale Barberini, destinato a Enrietta Maria di Borbone, moglie del re d'Inghilterra Carlo I. Quindi come vedete le connessioni, i nessi, i legami fra la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Andrea Emiliani sono molteplici e di natura diversa e rendono ancora più forte e ancora più caldo il ricordo che la Fondazione vuole esprimere.